Buongiorno a tutti, bentrovati! Oggi vi mostrerò come fare a casa il gelato Magnum! Per creare il gelato ci basteranno solamente due ingredienti, panna montata e latte condensato. Grazie a tutti! Vi ricordate la bacca vaniglia che abbiamo usato nella crema pasticcera? Io l'ho fatta essiccare e ora la andrò a frullare con un po' di zucchero per creare il nostro aroma vaniglia. Grazie a tutti! Ora che la base gelato è pronta andiamo a formare i nostri Magnum! Ci sono un sacco di stampi per gelati su stecco, io userò questo trovato su Amazon che vi lascio il link qui sotto. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I nostri magnum sono pronti. Grazie a tutti. 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 Tutti mi dicono che il termometro è indispensabile. Ma non è vero. Vi mostrerò... Grazie a tutti. Oppure guardate i miei prossimi video, i miei video più popolari, date un like, scrivete un commento e ditemi cosa ne pensate. Ciao!